Marco Scafu Gennaro Gattuso. Ecco le sue dichiarazioni a Milan TV, da Rino possiamo aspettarci di tutto, anche questo Milan in volo. Non mi ha sorpreso, vedo la squadra con Grinta, voglia di vincere e che dà tutto. Ha proprio la faccia di Rino, su Andrei Silva, Andrei è importante per gli schemi di Rino. Può fare la differenza perché sa gestire la palla e sa segnare. Speriamo riesca a trovare la condizione giusta per essere decisivo. Su Juventus e Inter, purtroppo non ci sono solo loro, poi giocheremo anche contro il Napoli. Ma queste gare sono quelle che tutti vogliono giocare, vincendole arriverebbero Grinta e Desiderio per chiudere la stagione al meglio. Ti possono interessare anche, Cafu stamattina a casa Milan. Cafu, Gattuso avrà preso per il collo i calciatori per farli correre. Cafu, Gattuso, vorrei assistere ai suoi discorsi nello spogliatoio. Seguici su Facebook, Twitter, Instagram, Google+, Telegram, scarica le nostre app, iOS, Android Tag, Andrei Silva, Cafu, Gattuso.